Musica Nuova legge elettorale si studia la proposta Mosca Giorno della memoria ricevuta a Palazzo Lascaris Lidia Maximovic ex deportata ad Auschwitz Emergenza climatica, convocato un consiglio regionale aperto Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Abolizione del listino, doppia preferenza, circoscrizioni provinciali Sono questi i capisaldi della nuova legge elettorale proposta dal consigliere Michele Mosca Abolizione del listino, doppia preferenza di genere, circoscrizioni provinciali Sostituzione alla francese dei consiglieri nominati assessori Al gruppo di lavoro per la legge elettorale presieduto da Davide Nicco, Fratelli d'Italia Michele Mosca, Lega, ha iniziato a illustrare la proposta di legge che ha presentato come primo firmatario Mosca ha chiarito che la proposta prevede l'assegnazione proporzionale di 50 seggi Eliminando il cosiddetto listino del presidente sulla base della popolazione residente nelle circoscrizioni nell'ultimo censimento Ho fatto una verifica e il numero di seggi non è cambiato, ha precisato il consigliere Secondo la proiezione realizzata con il nuovo metodo alla provincia di Alessandria andrebbero 5 seggi ad Asti 2, a Biella 2, a Cuneo 7, a Novara 4, a Torino 26, al VCO 2 e a Vercelli 2 L'unica differenza, ha sottolineato Mosca, è che il VCO passerebbe da 1 a 2 seggi anche in modo da garantire l'alternanza di genere, cosa impossibile con un solo rappresentante Le opposizioni hanno fatto notare l'assenza di Forza Italia alla riunione Sia Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, sia Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre hanno chiesto se almeno su tale proposta la maggioranza sia compatta nel presentarla Raffaele Gallo, Partito Democratico, si è detto non contrario all'impianto della proposta ma vuole rivedere la questione delle soglie di sbarramento Il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Sarizzoni ha ricevuto a Palazzo Lascaris Lidia Maximovic, ex deportata nel campo di sterminio di Auschwitz quando aveva appena 3 anni L'incontro rientra nell'ambito delle numerose iniziative per celebrare il giorno della memoria realizzate con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte In occasione del giorno della memoria che ricorre il 27 gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Sarizzoni ha ricevuto a Palazzo Lascaris Lidia Maximovic, deportata dalla campagna bielorussa e internata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau quando aveva solo pochi anni insieme alla madre Lidia visse per 13 mesi l'inferno del Lager nella baracca dei bambini diventando una delle piccole cavie degli esperimenti del dottor Josef Mengele Io ebbi l'occasione di visitare quel campo e ebbi modo di vedere quelle montagne di occhiali di ciabatte, di oggetti personali che mi stravolsero letteralmente e fui accompagnato anche negli ambulatori medici laddove lavorava, si fa per dire, lavorava il dottor Mengele che faceva questi assurdi, tragici, crudeli esperimenti soprattutto sui bambini La signora Lidia ha donato al vicepresidente una copia del libro appena uscito a cui ha affidato la sua toccante testimonianza La bambina che non sapeva odiare, scritto con il giornalista Paolo Rodari e introdotto da testi di Papa Francesco e di due altri sopravvissuti alla persecuzione nazista Liliana Segre e Sami Modiano Sono molto contenta, grazie al mio libro Il mondo sarà informato delle vicende dei bambini detenuti nei campi di concentramento perché fino a questo momento il mondo non si interessava della storia dei bambini si parlava solo dei prigionieri più adulti È necessario garantire la continuità delle conoscenze tra le generazioni sottolinea Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte affinché si possa comprendere sino in fondo il significato di ciò che successe in uno dei passaggi più tragici e drammatici della storia dell'umanità per evitare il rischio di nuove tragedie Fino al 27 febbraio sono in programma spettacoli dirette radiofoniche, mostre, letture, eventi per bambini visite guidate, social reading, proiezioni in presenza al Polo del Novecento nei luoghi della memoria cittadini e online Come ogni anno le iniziative del Giorno della Memoria sono realizzate grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e con il patrocinio della Comunità ebraica di Torino Una particolare attenzione è rivolta al mondo della scuola con una serie di eventi per studenti e insegnanti presso il Centro Studi Primo Levi e presso il Museo Diffuso tra questi un incontro di preparazione allo spettacolo La vita di Anna Frank in rassegna al Teatro Regio con la partecipazione del direttore artistico Sebastian Schwarz e gli artisti impegnati nello spettacolo Anche l'arte trova spazio nel programma 2022 per il Giorno della Memoria fino al 27 febbraio al Polo del Novecento è visitabile la mostra Le Scatole della Memoria Fitti gli appuntamenti organizzati nella giornata del 27 gennaio con proiezioni gratuite e laboratori di approfondimento proposti dal Museo Diffuso della Resistenza e dal Museo del Cinema L'elenco dettagliato di tutti gli eventi in programma è consultabile sul sito cr.piemonte.it L'emergenza climatica sarà al centro del Consiglio regionale aperto convocato per il 21 febbraio La conferenza dei capigruppo presieduta da Stefano all'Asia collegato da Roma dove si trova in qualità di grande elettore piemontese del Presidente della Repubblica insieme con il Presidente Alberto Cirio e il Consigliere Domenico Ravetti Partito Democratico ha deciso di convocare un Consiglio straordinario aperto per lunedì 21 febbraio Oggetto della seduta saranno le misure e gli interventi concreti per affrontare lo stato di emergenza ecoclimatica e raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea della riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 Nel corso della seduta, spiega all'Asia verranno anche ascoltate le testimonianze di associazioni che lavorano per questo obiettivo e di esperti del settore La richiesta di convocazione è arrivata dalle opposizioni Gli ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte a scuola di diritti umani avviati gli incontri formativi online per gli studenti Il progetto Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte entra nel vivo Hanno preso il via una serie di incontri formativi online per gli studenti che hanno aderito all'iniziativa Il primo evento ha avuto come protagonisti un gruppo di giovani dell'Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli che hanno ascoltato gli interventi sul tema dei diritti umani e civili svolti dal difensore civico della Regione Piemonte Paola Baldovino dalla Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ilenia Serra e dal Garante Regionale delle Persone Detenute Bruno Mellano A introdurre l'incontro è stata la consigliera Sara Zambaia vicepresidente del Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili che ha spiegato ai ragazzi la composizione, il ruolo e le funzioni del comitato Il secondo appuntamento, sempre online ha invece coinvolto gli studenti dell'Istituto Balbo di Casale Monferrato nell'Alessandrino che hanno incontrato il commissario del Corecom Marco Bria Monte e la Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ilenia Serra Rivolta agli allievi del triennio delle scuole superiori l'iniziativa Ambasciatori del Consiglio regionale che ha visto il Consiglio regionale del Piemonte quale prima assemblea legislativa italiana a proporla rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e consente di acquisire crediti formativi Su 4.000 detenuti sono stati più di 1.000 i positivi da Covid nelle carceri piemontesi i numeri sono ora in lieve calo e la maggior parte sono asintomatici o paucisintomatici sono questi dati che il Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano ha fornito durante l'audizione in Commissione Legalità presieduta da Giorgio Bertola Movimento 4 Ottobre Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti